Buona Epifania a tutti, buona Epifania, buona Befana, buon 6 gennaio, l'Epifania che tutte le feste si porta via. È sempre una festa malinconica, il 6 gennaio, insomma, è una data triste perché le vacanze di Natale sono ormai finite, tra qualche giorno ricomincia tutto, peccato, però insomma, buona Epifania che comunque è una festa importante. Ieri 5 gennaio 2022 è uscito un altro film italiano, perché il cinema italiano va avanti al cinema, a un demand in streaming, il nuovo film di Alessio Maria Federici, dal titolo 4 Metà, interpretato da Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Matteo Martari e Giuseppe Maggio. Alessio Maria Federici è un regista molto strano del nostro cinema, mi mette sempre in difficoltà, un passato da attore, poi regista, film diversi tra loro, film interessanti, sicuramente un bravo regista, che ha all'attivo ottimi film, pur con qualche passo falso, a mio modo di vedere, Stai lontana da me, un remake non riuscito, tutte lo vogliono, a mio avviso un pessimo film. Poi Terapia di Coppia per Amanti, secondo me è stato un po' il miglior modo per ripartire per Federici, veramente un bel film con Pietro Sermonti e Ambrangiolini, amanti, che andavano però in terapia da Sergio Rubini perché la loro storia, pur clandestina, però aveva dei problemi, e poi anche Uno di Famiglia, un'interessante commedia particolare, insomma. Adesso arriva con Quattro Metà, che esce su Netflix il 5 gennaio 2022, un film che non appartiene allo stile di Federici, ma che non è neanche nel perfetto stile delle solite commedie romantiche, sentimentali, Netflix, che piacciono soprattutto al pubblico giovane, che piacciono soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, che amano questo tipo di film. Io per esempio sono appassionato di film sentimentali, ma non prettamente film sentimentali di questo tipo, ho un altro concetto, un'altra idea di film sentimentale, ma di questo tipo non Quattro Metà. Di questo tipo inteso come le commedie sentimentali, i film d'amore che solitamente vediamo soprattutto in piattaforma, che vediamo su Netflix, ma anche su Prime, che escono a volte al cinema, italiani e non, e che piacciono quindi al pubblico giovanile. Spesso c'è anche la malattia di mezzo, anche l'Italia l'ha fatto, l'anno scorso è uscito sulla stessa Onda, un film in realtà che aveva anche i suoi pregi, che salvai, pur insomma con tante titubanze. Quest'anno arriva Quattro Metà, che, ripeto, è una via di mezzo tra lo stile di Federici, che è un regista comunque dallo stile riconoscibile, per quanto, ripeto, non tutto ciò che ha fatto io lo abbia apprezzato, e non tutto secondo me sia stato brillante, e poi anche con questo tipo di film, quindi via di mezzo tra Federici e il classico film giovanile, ma questo non è proprio giovanile, sentimentale, arriva Quattro Metà. che non è un film sull'amore giovane, non è un film sull'amore adolescenziale, è un film sull'amore dei trentenni, potremmo dire, un film sull'amore di chi non è più giovanissimo, di chi non è più ragazzino, di chi è maturo, ma vuole ancora sentirsi giovane, che poi alla fine lo è, però ha già, diciamo, effettuato quello step che lo porta a definirsi una persona matura, una persona adulta, per così dire. Ed è più semplice oggi fare questo in Italia, perché in Italia, nel cinema italiano oggi, fare un film sui giovani è un'impresa titanica, i registi non lo fate, perché è veramente difficile, abbiamo visto anche vari tentativi, secondo me non riusciti, di fare film sull'amore giovanile, l'anno scorso è uscito Maschile singolare, film sull'omosessualità che io ho totalmente detestato, qualche anno fa uscire Ricordo Succede, ispirato al libro di Sofia Viscardi, film che non mi piacque, lo stesso sulla stessa onda, l'anno scorso di Netflix, senza infami e senza lode, insomma è veramente difficile, due decenni fa, dal 2000 al 2010 ne abbiamo fatti tantissimi di alto livello, adesso è diventato veramente difficile anche proprio raccontare e descrivere questa generazione. Ma di cosa parla 4 a metà? Una coppia appena sposata invita a cena quattro amici, due uomini e due donne, casualmente entrambi single. In realtà tutto ciò è una storia, è una storia che viene raccontata dal marito di questa coppia, ad un amico, nel momento in cui, proprio a cena, nella stessa casa, dove poi in realtà si svolge la storia che viene raccontata, stavano dibattendo sull'esistenza effettiva dell'anima gemella. Anima gemella non intesa come una persona che incontri, della quale ti innamori, con la quale stai insieme, magari anche per tutta la vita, ma proprio anima gemella intesa come quell'unica persona che tu possa incontrare, con la quale tu possa stare insieme per tutta la vita, una sola al mondo per te. Se non è quella, non la troverai mai. Quindi un concetto di anima gemella anche molto fantasioso, sotto un certo punto di vista, che certamente non può essere condiviso da tutti. Per cui, dibattendo su questo tema, viene raccontata questa storia. I quattro sono, chiaramente, Elena Pastorelli, Matilde Gioli, Matteo Martari e Giuseppe Maggio, i quali potranno avere delle storie tra di loro. Si incontreranno, per la prima volta si conosceranno a questa cena. l'uno, diciamo, comincerà ad avere una conoscenza con l'altra, l'altra con l'uno, insomma, si incroceranno, ma poi chissà se effettivamente le coppie che si formeranno la sera saranno le stesse che effettivamente andranno avanti nel tempo, o se ci saranno dei cambiamenti, se ci saranno dei ripensamenti, se questi quattro personaggi continueranno a vedersi, se continueranno a stare insieme, insomma, è un film che vuole farci riflettere sul concetto di Arima Giamella, ma che effettivamente non ci presenta semplicemente due coppie che stanno insieme perché si sono incontrate quella sera e quindi una storia d'amore che nasce, ma vuole in realtà semplicemente farci vedere cosa sarebbe successo se questi personaggi fossero stati insieme tra loro, Matteo Martari con Elena Pastorelli, ma anche con Matilde Gioli, oppure Giuseppe Maggio con Matilde Gioli, ma anche con Elena Pastorelli. Tutto ciò io ve lo sto dicendo perché ho letto la trama, perché mi sono informato e perché ho visto il film. Ma se non avessi letto la trama io non l'avrei capito. Voi direte sei stupido, può essere, può essere che io sia un pochettino rincretinito, ma non credo che sia questo il problema. La sceneggiatura del film è sicuramente il difetto principale di questo film. Perché? Perché è una sceneggiatura confusa che mette in difficoltà, pone in una condizione di totale confusione lo spettatore. Noi vediamo questi quattro personaggi che si incontrano, che si conoscono, che si piacciono, rispettivamente ognuno con la propria ipotetica anima gemella, e che poi nella vita cominciano a frequentarsi anche al di là di questa cena, di questa serata. Poi improvvisamente vediamo magari Matteo Martari che prima stava con Matilde Gioli e con Elena Pastorelli. E viceversa, Giuseppe Maggio che prima stava con Elena Pastorelli, lo vediamo con Matilde Gioli, amico di Elena Pastorelli. e non si capisce niente. La cosa non è spiegata, non è specificata. Per cui l'intento del film era molto interessante. La base è anche, insomma, devo dire che questa serata con la quale i personaggi si incontrano, poi io ho un debole per le cene dalle quali parte tutto, la cena per farli conoscere potrei parafrasare, che era un film di Pupiavati di qualche anno fa con Diego Abba D'Antuono, e amo molto questo tipo di incipit. Il problema è che poi la sceneggiatura non tiene testa ad un buon soggetto di base, non tanto per quello che vuole raccontare, ma per come lo mette in scena, per poi arrivare però ad un finale che, non vi spoilero, che diciamo ricongiunge il tutto e è come se ci portasse a dare una pacca sulla spalla al film, a dire beh, vabbè, dai, ti sei salvato in calcio d'angolo. Un buon cast, molto bravo Elena Pastorelli che mi piace sempre di più, l'abbiamo vista recentemente in Io e Angela di Herbert Simone Paragnani con Pietro Sermonti di cui ho parlato ieri, brava Matilde Gioli che in questo film è ancora più affascinante, sembra ancora più solare del solito e questo, insomma, dimostra tutto perché lo è molto spesso, è una donna bellissima ma è soprattutto una brava attrice, Matteo Marta è un attore molto eclettico, mi è piaciuto anche in questo film, Giuseppe Maggio è quel tipo di attore da sul più bello, ancora più bello questi film qui che io sinceramente non amo, una sorta di after all'italiana che certamente non mi fa impazzire poi per carità non sto condannando la sua performance in questo film o l'attore in sé però diciamo che non mi fa impazzire e anche in questo film se dovessi ecco dirvi chi è che un pochettino non mi ha fatto impazzire citerei sicuramente lui comunque non me la voglio prendere con il povero Giuseppe e voglio fare comunque un plauso a Federici che si mette in discussione che decide di modellare il suo stile con quello della tipica commedia romantica che piace ai ragazzini ne esce fuori un mix interessante e il film comunque ha anche i suoi pregi questo dobbiamo sottolinearlo se non fosse però per una sceneggiatura che non ti fa capire niente laddove te l'avrebbe dovuto far capire perché quei film che ti fanno scervellare dai quali tu non capisci cosa debba aspettarti ci sono sono belli importanti ma certamente non è quattro metà il film più adatto in questo senso c'è anche però una visione un concetto del tradimento che mi è molto piaciuto a fine film il tradimento che si può perdonare il tradimento che non deve essere visto per forza come tu mi hai tradito allora sei una merda non ti perdonerò mai insomma ci sono delle cose interessanti in questo film delle chiavi di lettura molto valide e io gli do sei ma questo voto non deve essere inteso come vabbè sei una sofficienza stentata no ecco prima ho citato sulla stessa onda non si possono paragonare però sono due commedie romantiche Netflix uscite a un anno di distanza si può anche fare volendo film però ripeto diversi lì c'era la malattia la storia dell'amore classica questo è diverso quello era un sei regalato ecco un sei striminzito no vabbè se lo meritava in realtà però ero stato molto buono qui sono stato cattivo perché ho notato ho riscontrato un importante potenziale che non è stato rispettato fatto sta che comunque voglio premiare il film gli do una sofficienza piena e vi consiglio di vederlo ho letto tanti commenti positive e sono molto contento di questo perché vuol dire che sono stato scemo io e non l'ho capito io no credo che la sceneggiatura sia oggettivamente un pochettino confusa e abbia delle difficoltà lampanti però complimenti comunque ad Alessio Maria Federici per aver tirato fuori dal cilindro questo film lui di passi falsi ne ha fatti questo non lo metto tra i passi falsi ma tra i peccato ecco ieri ho detto peccato per io e Angela per altre ragioni oggi dico peccato perché bene ma non benissimo non si poteva fare di più fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quattro metà di Alessio Maria Federici lo trovate su Netflix dal 5 gennaio 2022 con Ilenia Pastorelli Matilde Gioli Matteo Martari e Giuseppe Maggio Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano Grazie a tutti